Ebbene, qui a Vinitali si incontrano anche tanti rappresentanti del mondo politico e noi abbiamo avuto il piacere di intercettare fra i tanti anche il neodeputato Ilenia Lucaselli. Tarantinissima, però è stata eletta nel collegio dell'Emilia Romagna. Buongiorno onorevole, so che siamo la prima testata giornalistica pugliese e tarantina nello specifico a raccogliere le sue riflessioni da deputata. Cosa pensa del Vinitali? Il Vinitali è una vetrina incredibile, davvero molto importante per il nostro Made in Italy. Poi lei sa, Fratelli d'Italia ha fatto del Made in Italy una sua bandiera in campagna elettorale, lo facciamo anche dopo le campagne elettorali. Ieri siamo stati qui con l'onorevole Meloni, abbiamo fatto un giro molto bello anche nelle cantine pugliesi che troppo spesso vengono un po' dimenticate. L'impressione è ottima, è una vetrina incredibile, quest'anno mi pare ci sia tra l'altro molta più affluenza rispetto agli altri anni. Ovviamente è un momento assolutamente importante. Ed è importante, sicuramente lei essendo rappresentante territoriale dell'Emilia Romagna, però noi non dimentichiamo che lei è pugliese. La Puglia sicuramente sta facendo una gran bella figura qui a Vinitali, non solo in questa edizione, ma ormai un'esperienza che si sta consolidando nel tempo. Ecco, dalla sua nuova postazione politica comunque di grande responsabilità, secondo lei la Puglia di cosa avrebbe bisogno ancora? La Puglia ha bisogno di essere organizzata meglio, quindi purtroppo credo che la Puglia, però questo poi in realtà è un problema del vino in generale in tutta Italia, sia un po' troppo frammentato, rappresentato in maniera spot dai singoli, ci vorrebbe invece più capacità associativa e quindi poi di rappresentanza generale. Il Primitivo in realtà però credo che sia una nuova finice e credo che si possa davvero puntare su quello. Noi abbiamo delle eccellenze straordinarie in tutti gli ambiti, non soltanto del vino, qui si parla di vino, quindi ovviamente si parla di Primitivo prima di tutto, però abbiamo aziende importantissime, ormai sono conosciute anche nel panorama nazionale.